Il vaccino contro influenza A è veramente sicuro, è efficace? Che garanzie dà ciascuno di noi al cittadino? E poi che significa adiuvante nel vaccino? Ne parliamo con il farmacologo per eccellenza per noi italiani, il professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Allora, questo nostro vaccino è efficace, è sicuro? Il vaccino è certamente efficace perché ricalca in qualche modo tutti i vaccini che abbiamo avuto finora contro l'influenza che arriva regolarmente ogni anno. Qualcuno dice però di aver avuto l'influenza subito dopo, il giorno dopo aver preso il vaccino? Certo, e questo è assolutamente normale perché bisogna sapere che il vaccino comincia a essere efficace soltanto intorno ai 15 giorni dopo la sua somministrazione. Quindi se qualcuno dopo il vaccino contrae l'influenza, evidentemente fa un'influenza come tutti gli altri perché gli anticorpi non sono ancora stati prodotti. C'è grande discussione sull'adiuvante che è aggiunto al nostro vaccino italiano ed europeo. Cos'è questo adiuvante? L'adiuvante è un nome che può destare preoccupazione. In realtà è soltanto una serie di prodotti che servono ad aumentare la risposta anticorpale, cioè aiutano a impiegare meno proteine del virus. Il vaccino che è stato acquistato per l'Italia contiene un adiuvante che ha come base lo squalene. Anche questo è un nome che può fare impressione, ma in realtà lo squalene è un costituente del nostro organismo. Non tutti però, soprattutto tra i medici e i pediatri, sono convinti di questo vaccino. Come mai? Diciamo che in linea generale i medici predicano bene e razzolano male, quindi in questa occasione non fanno altro che quello che hanno sempre fatto, cioè soltanto il 20% dei medici si vaccina contro l'influenza stagionale. Fra l'altro ho visto che le cose sono comuni dappertutto, perché qualche giorno fa in Svizzera ho appreso che anche lì i medici non si vaccinano. Io credo che invece sia un dovere etico da parte del medico di vaccinarsi, soprattutto quelli che hanno contatto continuo con i pazienti, perché c'è bisogno che loro non si ammalino, in quanto che se si ammalano tutti insieme e questo virus è molto contagioso, rischia che non c'è più l'aiuto non per quelli che hanno l'influenza, ma per quei pazienti che hanno veramente delle gravi malattie. Lei si vaccinerà? È pronto a vaccinarsi? Io ho fatto la vaccinazione come tutti gli anni per quanto riguarda l'influenza stagionale. Non mi sono vaccinato contro l'influenza H1N1 per più ragioni. La prima è che grazie al cielo sono in buone condizioni di salute, quindi non ho fattori di rischio. La seconda l'abbiamo detta perché questa influenza non colpisce gli anziani in modo particolare. E la terza perché non voglio sottrarre dosi di vaccino a chi invece ne ha bisogno, essendo limitato la disponibilità del vaccino fino ad oggi. Lei ha detto che molti dei decessi delle morti non sono poi da attribuire all'influenza, anche quando i giornali lo scrivono. Certo, non sempre è sicuro il rapporto di causa ed effetto. Ogni giorno muoiono nel nostro paese 1600 persone. È molto probabile che alcune di queste persone che muoiono abbiano l'influenza, ma forse sarebbero morte in ogni caso. Quindi è molto difficile oggi distinguere il rapporto che ci può essere quando l'influenza è associata a un altro evento che è la morte rispetto a quando l'influenza è la causa della morte. Questo richiede naturalmente esami molto approfonditi. Questo virus, causa di influenza, può cambiare e trasformarsi in qualcosa di più aggressivo? Nessuno può leggere nella sfera di cristallo, quindi fare profezie in campo medico è sempre molto rischioso. Quello che possiamo dire è quello che sappiamo fino ad oggi. Fino ad oggi non c'è stata nessuna mutazione. Che consigli dare al cittadino, alle persone? Il consiglio che si devono dare è intanto di non avere panico, perché questa è un'influenza relativamente benigna. Di prendere tutte le misure igieniche che possono servire per fare da barriera alla infezione. Noi sappiamo che questa influenza è molto contagiosa. Si calcola che un bambino possa infettare 2,5 bambini in media. Quindi vuol dire che si diffonde molto rapidamente. Quindi dobbiamo fare una barriera e la barriera consiste nelle regole igieniche. Consiste nel lavarsi le mani frequentemente. Consiste nel non effondersi in troppi baci e abbracci. Consiste anche nel, se si è colpiti, nello stare a casa e quindi nel non infettare gli altri. E se ci si trova all'esterno, se si hanno delle manifestazioni di eliminazione di questo virus, farlo con tutti i sistemi di protezione. Già questo avrebbe una grande importanza per diminuire la diffusione del virus.